Abbiamo fatto schifo ieri sera, la partita è stata scandalosa, siamo sempre ai soliti punti, non riusciremo a vincere niente quest'anno, la formazione è ridicola. Allora ragazzi, fermiamoci un attimo e riflettiamo insieme. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora oggi volevo parlarvi di quelle che dal mio punto di vista sono delle critiche ingiustificate per la prestazione di ieri da parte della nostra amata Juventus, in quanto ho sentito, ho letto qua e là commenti di persone, parecchie persone che hanno veramente massacrato di giudizi negativi la Juventus dopo la partita di ieri, che sicuramente non è stata una partita brillante, ma voglio mettere un attimo e fare un discorso da questo punto di vista. Ieri si ritornava da tre mesi, se non tre mesi e mezzo di inattività, ok? Si ritornava dopo tre mesi e mezzo, che come ha detto anche oggi Sarri, non erano tre mesi e mezzo in vacanza, che potevi fare cosa volevi, girare, eccetera, ma tre mesi e mezzo di quarantena, ok? In casa, è pur chiaro che tutti i calciatori hanno grande palestre, strumenti per allenarsi, ma cioè è una situazione molto particolare, molto particolare e molto anche difficile. Che cosa vi aspettavate? Io adesso mi rivolgo a tutti quei tifosi che ieri hanno dato, sentenziato negativamente la prestazione, cioè che cosa vi aspettavate? Come ho detto nel video che ho fatto appunto nella giornata di ieri, e l'importante, non era importante il come si sarebbe vinto, l'importante era vincere, era vincere, diciamo, scusatemi, era passare il turno, qualificarsi, ok? Ieri l'obiettivo era quello, in qualsiasi modo non importava, perché lo sappiamo bene che prima di ritrovare una condizione fisica ideale, importante, c'è bisogno ancora di tante settimane di lavoro, e comunque c'è bisogno di giocare. In generale, se non giochi, non puoi avere chissà qual è il ritmo di partita, se poi sono mesi che stai a casa, che cosa vi aspettate? Quindi io da questo punto di vista, sapete che io sono uno che spesso critica la società, critica i calciatori, critico tutti, ma ieri non posso criticare la prestazione della squadra. Anzi, vi dico una cosa in più, la Juve rispetto al Milan nel primo tempo, ripeto scusate se parlo piano ma non sono a casa, rispetto al Milan appunto, nella prima parte del primo tempo correva da matti, quindi ha dimostrato quantomeno nei primi minuti una grande condizione fisica confrontata con gli avversari. Ragazzi, nei primi 25 minuti il Milan non ha visto boccia, non hanno visto, non hanno toccato la palla, ma questo non è un aspetto da sottovalutare, perché non era scontato, non era scontato che la Juve avrebbe schiacciato così tanto il Milan nei primi appunto 20 minuti, questo è un qualcosa per cui bisogna complimentarsi sia con Sarri che con i giocatori. È chiaro che poi dopo, nel corso della partita, le energie sono andate a calare e tutto è stato più anacquato, più difficile, la Juve è riuscita più a far poco, ma ragazzi vogliamo parlare del Milan, perché qua ho capito che noi abbiamo una formazione molto più forte, ma il Milan a parte, non so, mezza occasione, ma non ha fatto nulla, zero, sembrava di giocare contro una squadra di Serie B o di Serie C, sembrava di giocare la Coppa Italia nei primi turni quando giochi contro, non so, Juventus-Novara, eh, dai, diciamoci la verità, cioè anche il Milan è una squadra di professionisti di Serie A, in che condizioni fisiche è arrivata? Una condizione imbarazzante. Noi quantomeno abbiamo dato qualcosa all'inizio, quindi sono contento e trovo, dal mio punto di vista, ripeto, ingiustificate tutte quelle che sono le critiche per quanto riguarda la prestazione. Ieri l'importante era passare il turno, come vi ho spiegato nei video passati, io non sono qua a dire che si può andare in qualsiasi modo, tanto è stata una situazione particolare con questo coronavirus, quindi anche questa Coppa, chi se ne frega, no. Dal mio punto di vista noi siamo la Juve e questa Coppa abbiamo l'obbligo di portarla a casa, perché è importantissima anche la Coppa Italia, specialmente poi per gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Poi li raggiungeremo meno, non lo so, la Champions sarà di una difficoltà esagerata, va bene tutto, ma questa Coppa bisogna portarla a casa. Per come la vedo io, non portare a casa la Coppa sarebbe una grande delusione, almeno, da parte mia, una grande delusione perché noi abbiamo l'obbligo di portarla a casa, con o senza difficoltà, con o senza coronavirus, questo non è importante. Detto questo, non sono qua a giustificare comunque, giustifico in generale la prestazione, ma sono il primo a dire che comunque anche ieri si sono visti quei problemi che arrivavano dal corso della stagione che abbiamo passato pre-coronavirus e anche ieri si sono palesati. Comunque abbiamo questa difficoltà nell'andare a finalizzare una grande costruzione di gioco, ma lo sappiamo, grande costruzione di gioco, ma poi difficoltà ad andare ad incidere. Ma questo avviene per tantissimi motivi, uno dei quali tra l'altro ieri la mancanza del pipitego in, che è importantissimo e anche in qualche modo così influenzato per la prestazione di Cristiano Ronaldo, anche se Ronaldo, ve lo dico sinceramente, va bene che ne arrivava da partite difficili, da un periodo comunque complicato, è stato tanto in Portogallo, difficile le nasse, eccetera, ma Ronaldo ieri ha giocato male, ha giocato male, c'è poco da dire. Nel momento però in cui erano tutti scoppiati, erano tutti scoppiati, l'unico che andava decentemente era Quadrado e infatti per quanto mi riguarda l'unico vero errore che ha fatto Sarri è stato quello di non metterlo al posto di Bernardeschi quando è stato al sessantesimo, anche perché Sarri aveva il cambio con, come si chiama, con De Sciglio, quindi poteva cambiare Danilo con De Sciglio, quindi aveva sostituto doveva mettere a lui non Bernardeschi, e Bernardeschi ieri ha fatto poche niente, ma Bernardeschi fa sempre poche niente, ieri diciamo che si sono visti in qualche modo tutti quelli che erano i fantasmi del passato, un centrocampo non adeguato, una difficoltà appunto andare a concludere per mancanza sia della prima punta ma anche comunque i centrocampisti che abbiano vocazione offensiva, lo sappiamo, i problemi di questa squadra li conosciamo, abbiamo visto addirittura delle buone, una buona prestazione se non ottima da parte di Alexander, è stata una prestazione miracolosa considerato i suoi standard, però non possiamo dire niente, dobbiamo aspettare, aspettare che i cacciatori riprendano un pochino il ritmo di partita eccetera, poi potremmo riniziare volendo anche a criticare in maniera obiettiva la squadra senza alcun tipo di problema, ora secondo me non è il momento però di criticare, ma è quanto più il momento di stare vicino a questi ragazzi che comunque ci stanno regalando la possibilità di giocarci una finale di Coppa Italia, che è comunque uno degli obiettivi a cui andiamo incontro quest'anno, che dobbiamo cercare di portare a termine, e quindi adesso è il momento semplicemente di stare vicino ai ragazzi e di in qualche modo accompagnarli per portare a casa questa Coppa, è tutto lì, poi dopo si inizieranno a valutare le cose, a parlare, i giocatori entrano un pochino più in ritmo, quindi ci sarà la possibilità di vedere meglio quello che va, quello che non va, sicuramente ci porteremo dietro a tutti i problemi che abbiamo avuto nella prima fase del campionato, ma ne parleremo in altri video, in altre situazioni. Adesso, adesso, parliamo invece della semifinale di stasera, vi dico sin da subito che l'Inter ha una buona formazione titolare, è una formazione che devo dire mi piace, andano in vicinporta, 3-4-3 classico, Skriniar, De Vrij, no forse, sì, penso De Vrij, e Bastoni, centrocampo con Candreva alla destra, Barella, Brozovic e Ashley Young, tre quartista Eriksen con davanti Lautaro e Lukaku. vi dico la verità, non so perché, ma ho la sensazione, spero di no, spero di no, ma ho la sensazione che l'Inter questa sera si qualificherà per la finale, spero assolutamente di no, anche considerando il fatto che al Napoli basta un gol per riuscire a, cioè se il Napoli fa un gol e poi il Napoli, l'Inter è obbligato a farne tre, quindi non sarebbe in quel caso per niente facile per l'Inter portare a casa la qualificazione, e vi dico sinceramente, se devo scegliere tra avere e affrontare in finale il Napoli o l'Inter, ve lo dico con tutta sincerità, preferisco il Napoli, perché l'Inter già è una cosa viscerale, perché quando da Juventino, quando si sente e si inizia a sentire parlare dell'Inter, già uno sta un po' male, dopodiché se te lo becchi in finale, che ancora questi ci battono, cioè per me sarebbe una roba, una delusione enorme, tanto vale se proprio devo batterci qualcuno che ci batta il Napoli, sia chiaro, io voglio vincere questa Coppa, non sto a vedere cosa è successo, cosa è successo, questa Coppa va vinta, punto, però preferisco affrontare il Napoli, ma anche il Napoli è come formazione e tutto, e quest'anno sicuramente è una squadra più abbordabile rispetto all'Inter. Detto questo, come sempre Conte ha la sua fortuna, Mario, scusate, ha la sua fortuna, perché c'è Fabian Ruiz che stasera non gioca, che li ha purgati e li ha battuti con la sua strapitosa rete, un bellissimo tiro in croce dei pali, nell'andata a San Siro, racconta che gli capita sempre qualcosa, questo è un bravo allenatore, ma ragazzi c'è una fortuna che è qualcosa di incredibile. Comunque staremo a vedere come andrà a finire la partita, riassumendo, stiamo vicini ai ragazzi, stiamo vicini ai ragazzi adesso e di quello che conta adesso portare a casa la Coppa, poi come va, come non va, come giocano, di quello si parlerà più avanti, adesso non è il momento di parlare di queste cose, stiamo vicini ai ragazzi perché la ripresa non è facile, né per noi ma soprattutto per loro in senso di condizione fisica, mentale e quant'altro, portiamo a casa la Coppa Italia e dopodiché inizieremo a parlare di tutto, stasera guarderò la partita, magari faccio un commento alla fine, vediamo come va e quindi concludo il video come sempre salutandovi e viva la Juve sempre, forza ragazzi!